buonasera a tutti signori e signori sono ronny rapone polverici qui direte esclusiva mondiale interplanetaria unica al mondo molto probabilmente ebbene sì con la casa grande a ugello e ficchiettelo bene in testa se non vi può mancare tu e tutti gli altri comunque ora stanno a collegare con il nostro amico ignazio scantavinello con dito dite è stato beccato a night sentiamo che ci facevo a night ma che ci facevo ma quello com'è successo su porconisti ci sta tutte tutte bardasce tutte a pecorate tutto quanto e mi sono messo a contare le pecorine 1 2 3 4 5 alla fine mi sono dormito capito ho montato le pecorine e mi sono dormito ragazzi porconistici e può dite che il vi non è vi però